Il primo esame per la Virtus Francavilla si chiama Turris, a Torre del Greco. Comincia ufficialmente la stagione della formazione bianca-azzurra e la voglia di partire. E tanta così, come spiega Antonio Calabro in conferenza stampa. Le sensazioni di voglia di iniziare, finalmente. Che era quell'entusiasmo, quella voglia, quella passione che mi aveva accompagnato all'inizio di questa scelta. La ho ancora adesso, quindi iniziare è il momento giusto per farlo. Perché comunque abbiamo dietro due mesi di lavoro. È vero che la squadra è stata completata gradualmente, ma è come normale che sia in questo periodo. Quindi con grossa voglia, con grossa entusiasmo e anche con tanta curiosità per vedere in campo quello che è, almeno inizialmente, abbiamo fatto in campo. Per quanto riguarda il mercato, penso che la società si sia adoperata bene, soprattutto per mettere al posto giusto le caratteristiche che io gli ho chiesto. Quindi questa è la cosa che mi preme dire. Quindi fare complimenti agli operatori, al Presidente, per il fatto di aver messo le caratteristiche giuste nei ruoli dove io volevo determinate caratteristiche. Poi sui nomi, l'allenatore si deve limitare a dire le caratteristiche e poi magari quando si chiude un'operazione si dà anche comunque il benestare. Perché abbiamo la possibilità in questa società di lavorare in questo modo.